Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video ragazzi dove diciamo tutta la ventottesima giornata si comincia oggi con Napoli Torino intanto prima di cominciare, per chi non l'avesse fatto, mi raccomando supportatemi per il canale, iscrivetevi al canale e soprattutto commentate e lasciate like e lasciate migliaia di like ragazzi lasciate like, almeno un 25 like per questo video fate anche 30 ragazzi, supportatemi, iscrivetevi al canale iscrivetevi e lasciate like ragazzi stasera si comincia oggi, venerdì 8 marzo tutto in diretta su Dazonne Napoli Torino stasera ragazzi, alle 20.45 vediamo le quote per Napoli Torino 1.80 l'1, x 3.45 il 2 è 4.90 ragazzi commentate secondo voi chi vincerà come finirà la partita secondo me sarà 1x Napoli Torino sarà da 1x secondo me anche perché ora il Napoli di calzone si deve riprendere e sta giocando anche bene si sta riprendendo piano piano arriva da due vittorie consecutive il Napoli ragazzi quindi io direi che secondo me può fare bene anche oggi ragazzi il Napoli invece il Torino arriva da un pareggio e due sconfitte quindi direi 1x secondo me Napoli Torino 1x ragazzi poi vediamo un po' domani alle 15 c'è Cagliari Salernitana secondo me direi 2 gol Cagliari Salernitana direi 2 gol partita salvezza sfida salvezza e anche Sassuolo Frosinone un'altra sfida salvezza direi Sassuolo lo vedo quasi sulla serie B ragazzi quindi direi x2 Sassuolo Frosinone direi x2 alle 15 sentite bene x2 perché ormai il Frosinone perché ormai il Sassuolo 90% è quasi in B ragazzi quindi secondo me x2 Sassuolo Frosinone alle 15 poi Bologna Inter alle 18 il Bologna ragazzi sta giocando veramente bene ma l'Inter secondo me può reggere perché ormai ha quasi vinto lo Scudetto quindi Inzaghi sta facendo veramente qualcosa di importantissimo con l'Inter quindi direi Bologna Inter x2 io direi ragazzi x2 più due gol perché l'Inter di Inzaghi contro il Bologna di contro il Bologna di Tiago Motta è veramente una bella partita x2 più due gol secondo me ci può stare io vedrei bene che è un pareggio ma se l'Inter gioca bene secondo me vincerà l'Inter ma per sicurezza direi x2 Bologna Inter poi vediamo Genoa Monza Genoa Monza 20-45 sono quasi lì magari il Monza ha un paio di punti in più Genoa Monza direi 1x do fiducia anche al Genoa io direi 1x ragazzi poi vediamo un po' la prossima da domenica 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 dalle 12.30 troviamo invece Lecce-Verona Lecce-Verona direi gol ragazzi Lecce-Verona gol poi Milan-Empoli Milan-Empoli alle 15 anche questa qui L'Empoli per salvarsi il Milan per la Champions Milan-Empoli 1 direi anche perché bisogna vedere il recupero dell'energia per il Milan ma con l'Empoli secondo me vincerà quasi sicuro che vincerà il Milan ragazzi quindi Milan-Empoli io direi 1 con l'Empoli poi c'è Juventus-Atalanta ragazzi questa è bella ragazzi Juventus-Atalanta io vedrei bene anche un x2 Juventus-Atalanta io vedrei anche un x2 perché anche l'Atalanta di Gasperini sta giocando bene contro la Juve di Allegri se Allegri non gioca bene l'Atalanta è lì per dare mazzate quindi io direi Juve-Atalanta x2 domenica alle 18 più vediamo un po' Fiorentina-Roma Fiorentina-Roma domenica alle 20.45 direi direi Fiorentina-Roma domenica alle 20.45 direi x2 dopo il 4-0 della Roma rifilato al Brighton direi Fiorentina-Roma x2 alle 20.45 più infine per finire lunedì 11 marzo ragazzi Lazio-Udinese alle 20.45 direi 1x più 2 gol ragazzi proprio per avere la sicurezza 1x più 2 gol Lazio-Udinese quindi Lazio-Udinese 1x più 2 gol Napoli-Torino sto guardando ma non ci sono ancora le formazioni ufficiali di Napoli-Torino vediamo formazioni formazioni probabili formazioni ecco Napoli-Torino e probabili formazioni dall'ansa dall'ansa allora probabili formazioni eccola qua ragazzi allora Napoli-Torino Merette Di Lorenzo Ostigari Quaiesos Mario Rui Anguissallo Botte Cazzinischi Politano Osimen Cavaraschelia invece invece il Torino con Milinkovic Savic D.D.G. Buongiorno Masina Bellanova Linnetti Gineitiz Rodríguez Vlasic Okerec Zapata e Zapata sarà una sfida veramente bella stasera al Maradona allo stadio Maradona di Napoli io come sempre direi io vi dico 1x Napoli-Torino 1x più 2 gol può essere anche una partita ricca di gol vediamo un po' vediamo un po' cosa succederà avete visto ieri sera la Roma ha vinto 4-0 col Brighton merito di De Rossi che sta giocando veramente bene ragazzi volevo dirvi questa cosa perché non è facile appena ha preso una squadra da neanche un mese farla giocare come sta facendo lui ieri sera addirittura in Europa League ha fatto una vittoria 4-0 dove fa giocare veramente bene tutti i giocatori ragazzi tutti i giocatori quindi io direi un bel plauso a Daniele De Rossi il che vuol dire che sta facendo veramente bene sulla panchina della Roma che c'è da neanche un mese ragazzi quindi complimenti a De Rossi volevo fare questa piccola parentesi a favore di De Rossi allenatore della Roma complimenti a De Rossi poi allora volevo dirvi anche la classifica di Serie A con l'Inter sempre primo e saldo a 72 punti più 15 sulla Juve 57 ragazzi pensate più 15 più 15 l'Inter sulla Juve 57 la Juve 56 il Milan Bologna 51 e le ultime tre sono Cagliari Sassuola e Salernitana di cui il Cagliari 23 e Verona 23 e poi a un punto ci sono Frosiliano 24 Udinese 24 e poi Empoli 25 Lecce 25 ragazzi pensate da Lecce che è tredicesimo ragazzi ci stanno praticamente sette squadre per salvarsi ragazzi sarà una Serie A quest'anno veramente bellissima per la salvezza e anche per la Champions per il fatto visto che ormai l'Inter ha già vinto lo scudetto ragazzi quindi vedremo un po' cosa succederà poi per i marcatori sempre primo Lautaro per i marcatori ha 23 retti e secondo Vlaovic ha 15 retti ragazzi poi vediamo la Gazzetta se ha altre notizie da darci allora vediamo un po' ragazzi allora la Juve ritrova McKennie e questa è una buona notizia su cui contare per Allegri io però lascio sempre Juve Atalanta X2 perché l'Atalanta sta giocando bene di Gasperini la Juve ritrova McKennie in campo con un tutore Gatti e Danilo dal primo minuto contro l'Atalanta ragazzi ranking vi sia piaciuto vi sia piaciuto ogni giorno mi impegno per farvi vedere sempre cose nuove parleremo sempre di più di calcio della Champions Serie A e calcio a mercato intanto vi saluto e ci vediamo in un prossimo video non dimenticatevi di lasciare a like commentate e soprattutto iscrivetevi al canale ciao ragazzi grazie